Nel passato, sentite sicuramente la nostra vita, c'è un certo tipo di caratterizzazione. Nel passato, sentite sicuramente la nostra vita, Nel passato, sentite sicuramente la nostra vita, Nel passato, sentite sicuramente la nostra vita, in particolare l'intenso valore morale, civico e spirituale, che ci assiste nella vita, nel giorno, nelle relazioni, nell'armonioso movimento di tutti i nostri rapporti con gli altri, nella civiltà di un rapporto democratico, ma soprattutto dell'intima convinzione che ho in personale natale, per dar testimonianza a questi piccoli versi, civico, che, purtroppo, per tantissimi motivi stasionali e vorremmo sentire in questo momento a tutti i nostri ragazzi di Cristo, di sentire il coinvolgimento di un valore che deve essere mantenuto. Le nostre puntate sempre e loro capire che la vicenda umana è armonica, condivisa se c'è rispetto al recente, viceversa tutta la fase. Signore, aiutaci a dare presente ai bimbi che crescono, di cosa quello che deve essere, e riconosciamo i nostri peccati. Grazie. 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 e che tu solo è Santo, tu solo è Signore, tu solo è Cristo Cristo, con lo Spirito Santo, con la gloria di Dio Padre. Amén. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Regna. O Dio Padre, che cerca di andare a regnare con te nella giustizia e nel lavoro, l'idea ci dà il potere dell'Eterno, fatta che camminiamo sul volo dell'Eterno.